Noi siamo rimasti molto colpiti quando abbiamo visto che le sequenze dell'epidemia di Voh, che sono un patrimonio fondamentale per la comunità scientifica, sono state depositate in database pubblici il 24 febbraio di quest'anno, un anno dopo che i campioni di Voh sono stati prelevati. E questo per noi è inaccettabile da un punto di vista etico. In audizione di fronte alla quinta commissione della Regione, Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zoo Profilattico, non ha nascosto lo sconcerto per il ritardo con cui è stato messo a disposizione della comunità scientifica il sequenziamento del genoma del virus che ha colpito la comunità di Voh, eseguito da Andrea Crisanti. Vi assicuro che è un tesoro per la scienza, che però non doveva stare in un cassetto per quasi 12 mesi. Sui motivi che hanno spinto Crisanti ad aspettare Ricci non si inoltra, ma l'operato del direttore della microbiologia dell'Università di Padova ha tenuto banco anche ieri sera a Ring, nel corso del botta e risposta tra il capogruppo della Lega Alberto Villanova e la consigliera regionale del PD Vanessa Camani, a cominciare dal suo studio sui tamponi rapidi. Lui stesso nel suo studio dice che il 98,5% dei tamponi rapidi dà lo stesso esatto risultato dei tamponi molecolari. Allora per mesi ci avete accusato di aver causato dei morti sulla base di questo studio che in realtà dice tutto il contrario. Voi davvero, sinceramente, volete giustificare 8.000 morti nella seconda ondata mettendovi a disquisire se lo studio di Crisanti è vero o non è vero? Dobbiamo attrezzarci per dare delle risposte migliori. Inevitabile lo scontro sulla commissione d'inchiesta che dovrebbe fare chiarezza sul forte impatto della seconda ondata del virus in Veneto. Nessuno ha problemi a concentrarsi sui vari step dell'emergenza Covid. Avete paura, dice Camani? Noi abbiamo talmente paura che la rendiamo pubblica? Cioè abbiamo talmente tanta paura che voi volete tenere la secretata e noi vogliamo farla pubblica. Avete paura? No, la vera paura ce l'avete voi che vi portiamo via il giocattolino perché volevate fare una commissione d'inchiesta con il risultato già scritto nella relazione di introduzione. Se non avete niente da nascondere, venite in commissione e accettate la nostra proposta.